E adesso andiamo all'evento di sensibilizzazione preparato dal nostro partner locale Watinoma. Sarà un teatro forum e una proiezione cinematografica a tema sull'agroecologia e sulla filiera corta e la nutrizione con prodotti sani e locali. Andiamo a vedere! Stanno andando a vedere questo spettacolo di teatro che è stato annunciato da un griot nei villaggi di zona e quindi si stanno recando là con le loro biciclette e adesso andremo anche noi. Lascio la parola a Dado che è il presidente dell'associazione Watinoma, quindi il partner locale che sta realizzando questo evento di sensibilizzazione. Sì, 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 grazie Eugenio. Ecco, siamo qui, siamo davanti a quello spazio lì che dobbiamo esibire stasera e quindi è tutto pronto. C'è il cibo che è già pronto per 200 persone. Le donne sono già fuori al mercato e io penso che sia andato già bene per un inizio come questo qua. Quindi stasera sono sicuro che finiremo verso le 19 per non finire tardi. Buon cibo a chilometro zero. Chilometro zero. La ferva di Watinoma, bio? Manger bene, meglio vivere. Ok, perfetto. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Le persone si stanno raccogliendo, quindi credo fra un quarto d'ora, venti minuti o qualcosa del genere comincerà lo spettacolo dedicato all'alimentazione sana e all'importanza di un'agricoltura agroecologica. Noi siamo qui per presentare una cosa che riguarda la nourritura bio. Praticamente abbiamo visto che molti cultivatori non hanno più confiato alla terra. Quando parliamo di sensibilizzazione in Africa, abbiamo bisogno con dei bambini e soprattutto per la famiglia, perché è la famiglia che prende l'idea e che l'amende a la casa. Quindi siamo qui per sensibilizzare la popolazione, per far fiducia alla terra, per utilizzare gli ingredienti bio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.